Farmacia del Dottor Pasquale Mega, una vasta scelta di prodotti per la giusta e sana alimentazione, test per le intolleranze alimentari, controllo del peso con bilancia impedenziometrica, alterpressorio, elettrocardiogramma, le migliori marche di dermocosmesi, analisi della cute e del capello. La farmacia Dottor Mega vanta un laboratorio galenico molto sviluppato. I farmacisti, grazie alle loro competenze, preparano unguenti, pomate, capsule, creme, preparati erboristici, fiori di bac, dermocosmetici, sia su prescrizione medica, sia per libera vendita. Farmacia Mega, a Martina Franca in via Lelio Fanelli 65.